VisioLog, sigla! Allora, per motivi che ancora non ho capito, con questa luce il pulviscolo atmosferico che passa davanti all'obiettivo della videocamera sembra gigantesco, quindi ogni tanto vedrete queste cose che mi passano davanti, non fateci caso, d'altronde sono ancora in Puglia, torno domenica, quindi da lunedì avrete di nuovo i contenuti con la solita qualità e nella solita location, nel frattempo purtroppo questo è quello che passa il commento. Allora, oggi voglio parlare di un film che mi interessava, su cui non avevo aspettative inizialmente ma che negli ultimi giorni ha iniziato a creare una certa curiosità nella mia testolina di cazzo, ed è una pericolo del 21 per la regia di Nia da Costa, ed è Candyman, prodotto e coscritto da Jordan Peele. Forse è questo che mi aveva fatto ben sperare, perché Candyman è di base un personaggio nato nel primo film omonimo del 1992, che poi ha avuto due seguiti, ed è diventato un piccolo cult, il personaggio quantomeno è sempre stato paragonato ai suoi fratelloni che sono Jason Voorhees, Michael Myers di Halloween e Freddy Krueger di Nightmare. Diciamo che l'idea era quella di creare un assassino da slasher sovranaturale nero però, perché comunque il fatto che fosse nero era importante perché viene raccontata la sua storia nel primo film e ti fa capire che c'entra la tematica razzista. Col fatto che questo film è stato prodotto e coscritto da Jordan Peele, io subito ho pensato, wow, sicuramente creerà intorno al personaggio un discorso sul razzismo ancora più profondo. Nia da Costa è una regista che secondo me si è data molto da fare, e in questo film ha messo in gioco una regia veramente ottima, con tanti guizzi e tante belle idee da un punto di vista visivo, ma proprio anche per quanto riguarda i movimenti di macchina, i campi e i controcampi, veramente una buona regia, che purtroppo però è l'unica cosa veramente funzionante nel film. Io non pensavo e trovavo di fronte a qualcosa di così mediocre in tutto il resto. La storia è anemica, non ha corpo, sembra quasi che Jordan Peele, Nia da Costa, anche lei ha cosceneggiato il film e l'altro sceneggiatore, non avessero bene idea di cosa far fare i personaggi, i personaggi che peraltro sono di un piattume allucinante. Il protagonista è Yaya Abdul-Mateen II, che ricorderete per il ruolo di Black Manta, oppure per il suo ruolo in Watchmen, la serie, insomma è un attore che si sta facendo conoscere molto, a me è piaciuto tantissimo, ma qui l'ho trovato veramente scarico e spompo. Forse anche la scrittura non aiutava, perché il personaggio ha un'evoluzione molto fittizia, in realtà è un'evoluzione forzata, più che altro, e sembra quasi che il film nella parte centrale davvero non sappia come raccontarti la storia che ti sta raccontando, come se un'ora e mezza fosse troppa e tutto si sarebbe potuto raccontare in 20 minuti. Davvero, tirano le cose per le lunghe in una maniera incredibile, tra l'altro abbiamo ancora Tony Todd, che interpreta Candyman, peraltro per giustificare il suo invecchiamento, hanno dovuto creare un espediente che francamente a me sembra abbastanza assurdo. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, in molti mi hanno chiesto, ma questo film come si collega a quelli precedenti? È un reboot? È un remake? Che cos'è? Allora, è un rilancio. È un rilancio nel senso che volendo si può guardare questo film senza aver visto i precedenti, perché ignora il secondo e il terzo, ma è di fatto un seguito vero e proprio del primo. È un seguito vero e proprio del primo perché si parla di Alan Lyle, si parla di quello che è accaduto, però allo stesso tempo ci sono delle incongruenze con il primo. Cioè, è questo il fatto. Vuole esserne il seguito, perché di fatto vuole essere il seguito, ma non rispetta alcune delle cose che ci sono state raccontate nel primo film. Allora io dico, ma a questo punto fai un reboot, fai un remake. Non fare un ibrido che però non funziona né da una parte né dall'altra. Questa cosa mi ha dato fastidio. Soprattutto io sono rimasto deluso dal discorso antirazzista. Perché? Perché Jordan Peele, se c'è qualcosa che i suoi due film che ha diretto finora e ce l'hanno insegnato, è che lui riesce a raccontarti il razzismo in una maniera veramente particolare. Non è mai troppo didascalico. In questo film, purtroppo, Jordan Peele, a livello di scrittura, è stato estremamente didascalico, forzato. Cioè, è di una forzatura incredibile. A un certo punto ti viene da pensare, sì, vabbè. Mi sembra che non abbia messo quel tocco elegante che ha messo finora nelle sue opere. È tutto troppo esagerato. Tutto troppo esplicito. La cosa non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero, perché io ero abituato a qualcosa di diverso. È vero che non era l'unico sceneggiatore, quindi c'erano anche altre due persone, quindi questo fa tanto. La mano della regista si vede anche nella sceneggiatura, si vede che ci sono delle cose che lei ha volutamente fatto come voleva fare. Forse tre teste per un film del genere sono troppe. Perché se hai troppe idee diverse per una storia che di base comunque è così semplice, rischi di fare un pastrocchio insensato, come poi è uscito il film. Non è che sia orribile, è che è un film horror piuttosto mediocre. Se non fosse per l'ottima regia vi direi che è un film che purtroppo è nella media degli horrorini del cazzo che escono ultimamente. È solo coinvolto un grande nome come quello di Jordan Peele. molti avevano aspettative per il fatto che comunque Daniel Robbettile, che sarebbe per l'appunto Candyman, è un horror maniac di quelli sovranaturali, nero, ed è stato il primo horror maniac di quel tipo a essere nero, quindi aveva fatto scappore anche questo. Uno si aspetta chissà quale grande metafora antirazzista che vogliono metterla, la mettono, ma secondo me non funziona minimamente. Non funziona soprattutto quando ci sono dei colpi di scena che ti fanno pensare, ah, e quindi? Cioè sono colpi di scena, peraltro, spiegati anche piuttosto male. C'è un concetto all'interno del film che mi ha fatto pensare, ma perché era necessaria questa cosa? Cioè alla fine, boh. Ma poi capita anche che comunque Jordan Peele o non Jordan Peele, se io vado a vedere un film che si chiama Candyman e che riguarda il Candyman degli anni 90, io vorrei vedere un film piuttosto violento. La violenza c'è, più che violenza direi gore, c'è il sangue, ma a livello di violenza ci sono quegli espedienti per evitare che il film si becchi un rating troppo alto, come ad esempio l'uncino che caga sulla vittima, stacco sul muro che si copre di sangue. Ho capito? Ma cosa ho? 12 anni. Ma vado a vedere un film su Candyman? Ma fammi vedere gli uncini che sgolano. si vedono, ci sono dei momenti, però si vede ma nella penombra e poi ti mostrano la ferita. Ti fanno vedere lui nell'ombra, ti fanno vedere la persona, la tizia che guarda da sotto la fessura del cubicolo del cesso e vede i piedi della vittima che si muove. Cioè ho capito, ma veramente, ripeto, ma cos'ho? 12 anni. Ma com'è che siamo arrivati a questa concezione di violenza così edulcorata in questo tipo di film? Cioè, non sto scherzando, quando io guardavo da ragazzino i vari venerdì 13 e quant'altro, erano di una violenza efferata. Adesso mi sembra che, siccome hanno capito che questi film guardano soprattutto i ragazzini, devono tenere un po' basso il tiro. E allora? Violenza vedo o non vedo. Tanto sangue, ma violenza vera e proprio meno. È Candyman. E che cazzo devi fare? È Candyman, santo Dio. Non ho... Cioè, è un tizio con un uncino che ti assalta con le api. Ma cosa devono fare? Porca misera. È Candyman. Ma fammelo violento. Ma tanto violento. Adesso non avevo il bagno di sangue totale, ma più di quello che ho visto qui. Quindi già sono deluso dal film in sé. Se poi ci mettiamo dentro il fatto che i personaggi non hanno senso, si aprono sotto trame che non vengono mai concluse e se vengono concluse non lo fanno in maniera soddisfacente. C'è poca violenza. La storia prende una piega veramente allucinante, assurda. Verso la fine devono inserire per forza certe tematiche perché perché siamo in un periodo storico in cui il problema del razzismo negli Stati Uniti e l'America è effettivamente enorme. E allora Jordan Peele ha voluto sensibilizzare sulla tematica, su quello che è successo con i Black Lives Matter. Beh, Black... Scusate. Black Lives Matter. Ogni tanto sbaglio a pronunciarlo. Quindi non capisco sinceramente però perché farlo in maniera così stanca. Cioè Jordan Peele è uno che con Scappagedaute e Az noi ha messo in scena delle cose molto interessanti. Per quanto a me noi non si è piaciuto più di tanto. Già noi vedevamo dei problemini di coerenza narrativa che qui si trovano molto di più. Avrei voluto vedere come l'avrebbe girato Jordan Peele. Senza una toglione da Costa che è stata bravissima per la modo di dicere spero che abbia una lunga carriera e che si faccia conoscere ancora di più perché secondo me c'è della buona sostanza. Credo che se riesce a dirigere così bene un film tanto commerciale con qualcosa un pochino più di sé magari ancora di più nelle sue corde potrebbe fare grandi cose. Io sono più su questa idea. Ma a parte questo il film purtroppo ha tante cose che non mi funzionano. addirittura io mi sono ritrovato ad annoiarmi. Ero lì che dicevo boh è arrivato il fine primo tempo ancora non è successo granché. Cioè ci mettono una vita per ribadirti un concetto estremamente semplice. Ok? È di una semplicità incredibile. Poi c'è una cosa che io avrei pensato che avrebbero esplorato di più da un punto di vista puramente narrativo. Cosa che non hanno fatto. E poi si arriva al finale in maniera velocissima e il finale è una cacata incredibile. Cioè io guardandolo ho pensato ma è possibile che questo film porti veramente la firma e la sceneggiatura anche di Jordan Peele? Ma tra l'altro io sono anche in difficoltà perché non è che ci sia niente da dire io non so quanto durerà questa recensione ma le recensioni durano tanto di solito. Questa non lo so. Cioè io nonostante sia in vacanza o non è gli sgoccioli ho voluto fare questo video perché sentivo l'esigenza di parlarvene. Perché ho detto no sono troppo deluso devo parlarne qualcuno potrebbe dire vabbè scusa Victor ma che cazzo le aspettative poteva avere su Candyman? Le avevo e come? Uno perché è un personaggio non è il mio personaggio preferito per amore di Dio però io diciamo che i miei gusti verso l'horror che è diventato uno dei miei geni preferiti dal punto di vista cinematografico li ho maturati negli anni 90 quando ero ragazzino quando a 7-8 anni mi guardavo venerdì 13 cagando io ero un cagassotto incredibile ragazzi ho smesso essere cagassotto ora si sia a 10 anni figuratevi anche di più forse 17 quindi prima che l'horror diventasse il mio il mio genere preferito ce n'è voluto di tempo ne ero affascinato ma mi spaventava anche tantissimo ecco quindi io Candyman venerdì 13 e compagnia bella li ho visti tutti quando avevo insomma dai 9 ai 12 anni che riuscivo a noleggiare la cassetta di nascosto dei genitori qualcuno registrava il film da notte horror vi ricordate? forse c'è ancora notte horror era il ciclo di film horror che davano Citalia 1 io ricordo quando riuscii a mettere le mani su Wishmaster quanto fui contento perché all'epoca aveva aperto una fumetteria che c'è ancora vicino a casa mia e questa fumetteria aveva in vetrina il jean di Wishmaster io mi innamorai di quel personaggio del character design e volevo vedere il film ma non riuscivo a vederlo in nessun modo perché l'avevo leggato mia madre sgamò la cassetta e disse no è troppo violento non lo puoi guardare ha detto ma non sai neanche che film so che a te piace sta merda ha detto va bene mamma ok aveva anche ragione in effetti e alla fine riuscì a vederlo quindi fui contentissimo poi il film non era anche per l'amor di Dio però comunque il personaggio nel suo piccolo è stato piuttosto conosciuto molti di voi non si ricorderanno chi sia il jean e cosa sia Wishmaster ma per la mia per la mia pre-adolescenza fu qualcosa di molto importante Candyman era tra questi personaggi poi per l'amor di Dio se parliamo da un punto di vista puramente registico e tecnico questo film prende quelle degli anni 90 se li mette in saccoccia se ne va alla costa è stata bravissima ma da un punto di vista della coerenza narrativa forse preferisco quello del 92 che aveva meno pretese ecco è questo che mi dà fastidio io non sopporto quando un film pretende di insegnarti qualcosa ma non lo sa fare Jordan Peele è riuscito a fare delle cose ottime con i suoi primi due film ma qui il suo messaggio antirazzista è banalizzato in una maniera atroce veramente veramente banale e mi dispiace tanto mi dispiace tanto perché potevo uscire una buona cosa soprattutto in questo periodo storico un nuovo film su un personaggio che secondo me non ha mai avuto la risonanza che si meritava un killer sovranaturale nero che insomma diventava un essere sovranaturale per via di una vendetta all'oltre tomba che concerneva il suo essere nero perché centrava il suo essere nero si se avete se avete presente Candyman sapete perché non voglio dire troppo che magari qualcuno lo sa però l'avrete immaginato ovviamente era poteva venire fuori qualcosa interessante invece no hanno deciso di fare una roba banale con una regia insensatamente ottima perché è quasi un peccato che da un punto di vista tecnico il film si è fatto così bene e che poi adesso faccia schifo cioè se io dovessi anche solo salvare minimamente questo film è solo perché ha dei momenti che per me sono grandiosi io vi giuro ha proprio dei momenti che visivamente mi ha fatto pensare oh porca puttana ed è uno spreco perché sono trovate geniali asservite ad uno sviluppo della storia orribile mi dispiace mi dispiace perché si poteva fare si doveva fare non si poteva si doveva fare molto di più con questo film ma nettamente di più e io rimango purtroppo basito perché forse sono anche esigenze produttive forse la produzione voleva riproporre un film del genere per far arrivare i ragazzi di sale Giordano Pile ha detto beh già che ci sono ci butto dentro un po' la tematica antirazzista ma magari dall'alto hanno detto sì però a parte che è prodotto da lui però sai è prodotto da lui ma ci sono anche altre case di distribuzione e produzione insieme non è solo prodotto a Jordan Pile quindi in realtà poi ci sono tante teste uno dice no perché poi ci becchiamo quel rating no perché sennò poi i ragazzi non vanno a vederlo e allora esce fuori una roba così che secondo me è visivamente spettacolare da un punto di vista del resto no mi dispiace mi dispiace anche per Yahya Abdul-Mateen che secondo me è bravissimo e che qui non è stato sfruttato neanche il 10% del suo effettivo potenziale e mi dispiace il personaggio è veramente un cretino integrale ma poi la spirale di eventi che a un certo punto accade non ha veramente senso e prima ti dicono una cosa e poi te ne dicono un'altra e poi ti arrivano con la rivelazione che non ha senso di esistere boh è veramente un peccato perché secondo me si potevano fare tante tante cose interessanti col personaggio di Candyman credo anche che l'idea l'obiettivo fosse quello di creare una nuova saga di rilanciare il franchise per poter battere il ferro finché è caldo e realizzare magari uno due o tre seguiti chi lo sa dopo questo film io non lo so se faranno dei seguiti e sinceramente secondo me non ha neanche senso farli perché veramente o aggiusti il tiro e fa qualcosa di effettivamente interessante oppure se quel massimo cresce a partorire questa cacata di film allora scusate ma io preferisco di gran lunga che non facciano nient'altro e il mio dispiacimento sta proprio nei nomi che sono coinvolti perché la regista è brava Jordan P il porca miseria è uno che poteva fare tanto ed è come se abbia detto ma si dai è una roba commerciale facciamolo un po' così e poi anche lì perché fare un sequel ma non fare un sequel ma fai un film che sia una ripresa io addirittura l'avrei fatto diversissimo avrei tenuto la questione del killer nero con l'uncino ma ne avrei cambiato le origini avrei fatto proprio una cosa diversa che però potesse definirsi Candyman avrei fatto un rimpastone invece di collegarti al primo film senza però tenere conto della continuity allora che cazzo ti colleghi a fare alcuni dicono ma non è proprio un collegamento hanno ripreso la trama del primo film e l'hanno rielaborata ma da quello che io so si poneva proprio come sequel del primo peraltro di un film che il 90% delle persone che vanno a vedere questo oggi non hanno visto perché è un film che ripeto negli anni 90 ebbe il suo seguito ma oggi se non fosse uscito il trailer mesi fa di Candyman nessuno si sarebbe mai ricordato di Candyman e di che cos'era tant'è vero che sotto al trailer un sacco di persone avevano scritto sotto il video del trailer ma che cos'è ma chi è ma cos'è Candyman ma esisteva già perché giustamente i ragazzini di oggi non sanno chi è Candyman non è diventato così famoso il cult da essere sulla bocca di tutti è un piccolo cult il personaggio piccolo io ho anche l'action figure a casa perché mi piaceva molto era figo ma a parte quello ecco però una cosa la devo dire e devo ringraziare pochi pochissimi jumpscare ecco questo è un merito però il problema è che non fa paura cioè io speravo di trovarmi di fronte a Candyman sullo schermo e di temerlo non c'è stato un solo momento in cui mi facesse paura anche perché anche perché il film ti porta un po' dalla sua parte ed è talmente ferato ma con persone stronze attenzione perché le persone che ammazza sono tutte stronze è talmente ferato con personaggi stronzi che quasi a te non vedi loro che compaiono sullo schermo perché li secchi e quindi non diventa più un personaggio inquietante diventa quasi un giustiziere che se la prende con gli stronzi che fanno i fighi con i dei non è proprio così Candyman ragazzi cioè Candyman cioè paradossalmente il discorso antirazzista funzionava di gran lunga di più nel primo film che era un discorso comunque molto più blando rispetto a quelli che si fanno oggi piuttosto che quello che succede in questo film è questo il fatto cioè mettere il discorso antirazzista non può farti diventare quasi simpatico il killer perché evidentemente l'intento non era quello ha ecceduto è talmente stereotipato il messaggio che vogliono dare che non arriva e ridicolizza molto di quello che vediamo nel film intanto qua sta cambiando la luce benissimo quindi capite cosa intendo secondo me è un po' un buco nell'acqua cioè se volevano parlare di razzismo con questo personaggio avevano l'occasione per farlo e anche bene e invece hanno tirato troppo la corda e secondo me hanno proprio mal capito il personaggio il personaggio era diverso perché sì lui faceva certe cose per quello che gli avevano fatto ma era comunque sempre feratissimo cattivissimo malvagio attenzione non aveva l'aria da giustiziere era il cattivo era il mostro qua invece è però è ma quindi non lo so cioè ragazzi la scena finale venitemi a dire che è finzione ovviamente stiamo parlando della finzione dei personaggi che c'erano sullo schermo venitemi a dire che avete pensato quanto mi fa paura ma com'è cattivo e malvagio sono persone che non si meritavano nulla no ragazzi per cortesia quindi capite che insomma è un po' così è un po' così non mi ha non mi ha veramente fatto impazzire sono amareggiato perché da tutti mi potevo aspettare di cadere nel trappolone del qualunquismo ma non da Jordan Peele e invece l'ha fatto quindi è un peccato spero che il suo prossimo film abbia un minimo di mordente in più ripeto non è diretto da lui lo so ma è un progetto molto suo a questo punto mi chiedo perché non l'abbia diretto ma vabbè quindi boh ragazzi io non mi sento di dire che questo film sia riuscito non mi sento di dire che mi abbia divertito mi ha rotto le palle e mi ha anche fatto arrabbiare perché ha travisato completamente quello che era un personaggio secondo me con un potenziale incredibile di conto secondariamente colonna sonora interessante ma dimenticabile cioè nel corso del film la colonna sonora fa il suo ma come esci dalla sala te la sei dimenticata non c'è niente rimemorabile in questa musica però comunque ci può stare con Eki della colonna sonora del primo che del primo e degli altri Candyman ma rilaborata in modo che boh non ti lasci granché e poi soprattutto secondo me dovevano dare più attenzione a uno degli elementi più interessanti del personaggio che sono le api spiegare lo so che te lo spiegano però secondo me avrebbero potuto puntare un po' di più sulla questione del perché lui quando c'è lui ci sono anche le api perché comunque alla fine le api sono il segnale di arrivo di Candyman e quindi sono importantissime però ci sono come vi ho detto alcune trovate registiche che mi hanno fatto pensare beh 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 e ve ne parlerò nella parte spoiler quindi non so quanto sia durato tutto questo forse ho fatto una recensione se non spiegare dieci minuti non lo so sta di fatto che non ho veramente nient'altro da dire c'era poco da dire in realtà quindi io vi abbraccio cazzo tanto ma tanto ma tanto bene noi ci vediamo al prossimo video se il film l'avete visto ma se il film l'avete visto e il film l'avete visto e il film lo specifico gli spiegherà 3 2 1 allora come vi dicevo ci sono dei momenti veramente spettacolari da un punto di vista puramente tecnico ad esempio io ho adorato il primo omicidio di Candyman il gallerista e la sua stagista perché c'è questa cosa del telone su cui viene proiettata l'opera d'arte con lui con tutto il gioco di ombre lui che solleva le persone le ammazza ma noi vediamo cosa accade dal di fuori quindi lui che viene sollevato le persone vengono sollevate e lui che si vede solo nei riflessi perché dal di fuori si vedono persone che vengono sollevate dal nulla che si liberano nell'aria in realtà se vede il riflesso nello specchio è lui che sta ammazzando quindi questa cosa bellissima così come mi è piaciuto un sacco il fatto che i loghi degli studi di produzione all'inizio del film siano specchiati ero lì che dicevo ma perché specchiati poi ho pensato ah beh certo ma anche questa cosa secondo me avrebbero dovuto puntare molto di più sul fatto che lui si muove negli specchi secondo me si è una cosa che reiterano ma quando entra in azione avrei voluto che le persone si stupissero un po' di più sinceramente e poi io francamente la cosa della violenza l'ho un po' accusata nel senso che si c'è il sangue per amodiglio ma tutta la scena in bagno con le ragazzine che vengono uccise a parte che è molto a caso non ha grandi ripercussioni e vabbè tutta nascosta con l'altra ragazza nel bagno che guarda sotto e vede quella col sangue avrei voluto vedere un po' più di violenza in questo senso e il senso è che lui ammazza praticamente solo persone bianche perché sostanzialmente Daniel Robitaille era questo schiavo no anzi scusate non schiavo perdonatemi era questo pittore nero che si è enamorato di una ragazza di questo uomo potente bianca l'aveva messa incinta allora era stato torturato cosparso di api che lo avevano punto quasi fino alla morte che era però sopraggiunta a causa del fuoco che gli appiccarono gli dedero fuoco per finirlo ecco nel film si parla però di questo tizio Sherman che era l'uomo delle caramelle quello che regalava le caramelle e avevano trovato in alcuni dolcetti un rasoio e allora pensavano che fosse lui quando un bambino che poi vediamo adulto nel film quando questo bambino lo vede sbucare fuori da questa fessura del muro si mette a urlare i poliziotti entrano lo ammazzano senza pietà senza neanche fargli il processo e niente poi si scopre che in realtà non era stato lui e io dicevo ok il ragazzino quello che poi era la lavanderia quello che aveva visto l'uomo delle caramelle praticamente è lui che sta dietro a tutto perché lui vuole che il protagonista che è questo artista che diventa ossessionato con Candyman poi a un certo punto diventi Candyman dice alla fine è sempre Daniel Robitaille è sempre lui che prende cioè che che prende i corpi di queste persone nere che vengono ingiustamente uccise e sorge per vendicare il quartiere per vendicare il suo popolo non è che è proprio così questa cosa della incarnazione non è esattamente così e l'hanno messa giusto per giustificare che vediamo spesso è Tony Todd che ormai è invecchiato cioè non può mostrarti il Candyman che è invecchiato è un mostro uno spirito un demone vendicativo allora devi giustificare l'invecchiato non ha senso ragazzi scusate ma questa cosa proprio non ha senso alla fine il protagonista lui viene appunto da un'ape inizio film la puntura dell'ada un'ape di Candyman la puntura dell'ape inizia a corrompere a creare questi buchi come se fossero alveare fino alla faccia fino a che il tizio della lavanderia non gli taglia la mano gli mette l'uncino e dice adesso arriveranno i puliziotti che ti sospettano perché gli omicidi sono iniziati da quando tu hai creato fondamentalmente la questa opera d'arte in cui dici di dire 5 oltre lo specchio Candyman perché lui deve tornare scusami perdonami ma che cazzo vuol dire che deve tornare cioè perché c'è bisogno di lui è già tornato è già tornato cioè io a un certo punto ho anche pensato ma non è che in realtà non era ancora tornato ed era lui il protagonista che iniziava a ammazzare le persone che non se ne accorgeva ma no non può essere perché quando vediamo le persone che vengono uccise le vediamo uccise da Candyman e vediamo che vengono che iniziano a come dicevo prima a levitare nell'aria perché lui non si vede se non nei riflessi quindi non ha un cazzo di senso questa cosa non ha senso e si parla della protagonista del primo film che era impazzito cercano Candyman che aveva rapito questo bambino poi si era sacrificato nel fuoco in realtà il bambino lo voleva salvare si scopre che quel bambino non è niente meno che Anthony il protagonista che fin dall'infanzia era stato selezionato da Candyman come sacrificio e quindi alla fine Candyman torna ma anche lì ripeto cosa vuol dire torna perché lui deve tornare ma basta che dici sono 5 volte allo specchio sto stronzo ha fatto un'opera d'arte di cui si parla per cui devono dire 5 volte allo specchio Candyman ed è già tornato perché cazzo deve diventare lui Candyman che c'è già Candyman no c'è bisogno di un nuovo Candyman che poi è sempre Danero Betail che prende la forma a partire dalle persone nere uccise ingiustamente e poi c'è questo finale di un ingiustamente il finale è veramente allora ragazzi io ho capito cosa voleva dire la brutalità poliziesca il razzismo vero però è troppo 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 macchiettistica la cosa c'è la ragazza di lui che lo abbraccia lui che sta morendo arrivano i poliziotti e sparano subito lui senza neanche dire niente ok va bene ma è troppo col poliziotto che mentre lei è in arresto in macchina dice beh se tu dici che lui si è scagliato contro il mio collega e lui gli ha sparato non ti fai la galera altrimenti ti fai la galera lei si guarda allo specchietto dice 5 volte Candyman e arriva il suo ragazzo ormai diventato Candyman che massacra tutti i poliziotti per come ti mostrano i poliziotti come personaggi finzione ovviamente in quella scena ma tu come fai a dire oh mio dio che paura Candyman tu speri che a dire Candyman gli ammazzi tutti cioè veramente per come sono presentati i personaggi muore il gallerista e la sua stagista che sono due stronzi e quindi muoiono e dici oh sempre finzione muoiono le ragazzette stronze bulle muore la critica stronzissima muoiono i poliziotti alla fine scusatemi perdonatemi scusate a un certo punto ti viene anche da dire eh e dai cioè non c'è neanche un secondo cioè sembra quasi che lui faccia delle cose cioè lui si accanisca solo sui cattivi in realtà non è propriamente così Candyman non è così la protagonista del primo film mica era cattiva e questo è il fatto se tu mi rendi le persone che sono le vittime me le rendi tutte delle stronze clavorose non hai colto bene il messaggio è vero Robert Hyle era stato ucciso in quel modo eccetera vero anche negli altri film verissimo ma poi la sua ferocia la rivolgeva verso chiunque cioè la sua ferocia era proprio totale non risparmiava nessuno buoni nessuno cioè lui era incazzato per quello che gli avevano fatto ma non ne faceva una questione solo politica ammazzava e basta lui pensava che tutti dovessero morire qua invece ci hanno messo questo sottotesto banalissimo con la brutalità poliziesca che però non è rappresentata bene è rappresentata in una maniera quasi grottesca rappresentamela bene non me ne rappresentare così a culo perché altrimenti non sembra una roba seria io non ce l'ho fatta io ero che dicevo ma cosa cazzo sto guardando poi le inquadrature dei palazzi al contrario tutte le scene con la dimensione cioè di lui nella dimensione specchio la scena con le api che però sono dall'altra parte dello specchio quindi le vedi che ronzano ma non puoi toccarle e non c'è un'altra ape che fa riflesso quelle sono tutte cose fatte benissimo le scende dipinge in questa sorta di trance poi anche lì vedi che hai ti appunto la mano è una mano che si sta marcendo ma vai all'ospedale ma che cazzo oppure la storyline della compagna di lui che ha visto il padre che si suicidava che era anche lui un artista che boh non ha una vera chiusura non la spiegano bene veramente boh non lo so io esteticamente ho fatto benissimo belle idee belle trovate ma è l'unica cosa veramente interessante di questa accozzaglia di robe per allungare il brodo che si conclude in un finale orribile con lui che dice spargi la voce di che sono tornato ma che cazzo ma ti prego ma dai sembra quasi un supereroe alla fine ma non è così Candyman non ha neanche senso che sia ho capito che lui dice ma però è un'altra cosa no Cristo me lo poni come seguitore primo fammi Candyman non mi fare sta roba boh non lo so ragazzi io noto anche che il film negli Stati Uniti America lo stanno anche lodando l'ho scritto anche su Instagram se iniziassero a dar contro un film del genere perché l'argomento è importante la tematica è importante negli Stati Uniti America in questo momento il messaggio conta di più della qualità del film il problema però secondo me è che il messaggio non passa bene il messaggio è quanto di più di da scalico e qualunquista ci possa essere Jordan P l'ha fatto molto di meglio secondo me non è così che mandi un vero messaggio antirazzista poi magari sbaglio io comunque sia questo è quello che ho da dire circa Candyman perché non c'era ripeto moltissimo da dire grazie mille e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti